Buongiorno a tutti, sono il geometra Marco Arnavoldi, tecnico certificatore energetico degli edifici in regione Lombardia, oltre a essere un punto tecnico abilitato come geometra per Monza e Prianza e recentemente iscritto all'Auto dei Citi. Oggi parliamo della conformità edilizia e catastale per gli atti di compravendita. Capita sovente che gli atti di compravendita vengono rinviati o addirittura bloccati per una mancata conformità edilizia e catastale rispetto allo stato di fatto o a quanto autorizzato. Per fare questo è necessario sapere e conoscere lo stato del proprio immobile. La documentazione potrebbe essere già nelle mani del proprietario oppure richiedibile all'archivio comunale dove si vede l'immobile. E' bene quindi non farsi trovare impreparati per poter arrivare all'atto con tutta la documentazione in ordine. L'importanza di tutto ciò si ha sia per il proprietario che può vendere che il futuro acquirente che dovrà quindi acquistare e ha una documentazione corretta, completa e quindi una garanzia in più nell'acquisto. Le difformità che possono essere trovate sia nelle pratiche edilizie che nelle planimetrie catastali possono essere diverse. Alcune sanabili tramite le pratiche edilizie di sanatoria, altre invece non possono essere regolarizzate. Pertanto bisognerà ripristinare lo stato dei luoghi così come dall'ultima pratica autorizzata. Le planimetrie catastali sono aggiornabili in poco tempo, quindi invadibili in qualche giorno. A differenza invece delle pratiche edilizie in sanatoria che richiedono molto più tempo, a volte anche mesi. E' per questo proprio il motivo per cui è bene partire con largo anticipo nella preparazione della documentazione e quindi nella correttezza di tutto quello che serve per poter arrivare al mato di complementità.